Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il regolarista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1967, Un uomo, un cavallo e una pistola. Una banda di malfattori che agisce ai confini tra gli Stati Uniti e il Messico, con la complicità di un ufficiale postale si impadronisce di una carrozza interamente d'oro, che tentava di passare clandestinamente il confine, il mio voto a questo film è 10, ho voto a questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione, la sceneggiatura, è di genere western, la durata è 1 ora e 35 minuti, il regista è Luigi Vanzi, la regia è buona, bravo regista, la data di uscita è 17 agosto 1967, l'attore è Tony Anthony, bravo attore nel film anche, Dan Vedis, Daniele Vargas, Jill Banner, Raph Baldassarre, Ettore Manni, Marina Berti, Marco Guglielmi, Fred Copland, Mario Novelli, Renato Mamabor, Silvana Bacci, Luciano Catenacci, Omero Capanna, Rossella Bergamonti, Fortunato Arena, Giuseppe Adobbati, William Conroy, Aisa Unao Ronciagawa, Antonio Danesi, saluto, Alessandro Bidone, Kevin, Gigi, Samobrina, Cita, Aliciotola, Markolf, Mariuccia, Pia, Ilaria, Ilario, Domenico, Leo, Tassoni, Bulluni, Ivan Drago, Peter, Tim, Michele Tricigliani, Favij, Picchiatore, Il Trio Medusa, Mr. Bike TV, Festival, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.